a telespettatori di sedia tv buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione di oggi giovedì 8 settembre in apertura una notizia tragica che ha visto coinvolto una ragazza di 25 anni che è morta nel primo pomeriggio di oggi a tagliuno una frazione di castelli calepio attorno alle 13 e 30 secondo le prime indiscrezioni ancora frammentarie perché le indagini sono tuttora in corso visto appunto la freschezza della notizia sembra che la donna stesse lavorando nella ditta mega srl di via tasso nella zona industriale di tagliuno quando era uscita dal capannone per sversare del liquido in una vasca esterna in quel momento si è sentita male sarebbe caduta all'interno della vasca in cui ci sarebbe stata un'esigua quantità di un liquido ancora non specificato la 25 anni sarebbe stata trovata già esanime dai colleghi di lavoro i quali comunque hanno provato a soccorrerla e lo stesso hanno fatto i sanitari del 118 giunti sul posto poco dopo ma non c'è stato nulla da fare i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso maggiori informazioni ve le daremo o già nel corso di questa edizione oppure in quella di domani restiamo a parlare di cronaca per una notizia invece a lieto fine una temporale della notte della prima mattina hanno generato una fiume improvvisa del fiume serio che ha sorpreso alcuni operai al lavoro sulle sponde all'altezza di prada lunga il maltempo che nella notte ha colpito l'intera provincia di bergamo ha creato qualche disagio in particolare in bassa valle seriana dove l'innalzamento del fiume serio ha colto di sorpresa due operai tra i comuni di nembro e prada lunga è infatti intervenuto poco dopo le 8 di questa mattina l'elicottero dei vigili del fuoco in volo da varese impiegato per portare in salvo i due operai bloccati su un isolotto oltre all'elicottero a terra hanno operato anche alcune squadre dei vigili del fuoco del comando di bergamo per facilitare l'operazione di salvataggio i due uomini sono rimasti lesi e portati a sicuro dal personale a corso sul posto insomma dopo mesi di siccità la pioggia è arrivata ma ha generato anche alcuni problemi problemi anche a carvico ma di tutt'altro genere incendio questa mattina intorno alle 6 e 30 nella cascina badalina di via santa maria necessario l'intervento dei vigili del fuoco della centrale di bergamo del distaccamento di dalmine di merate e i volontari di gazzaniga di madone la cascina in parte utilizzata dalla protezione civile come magazzino è stata colpita forse da un fulmine e ha preso fuoco spente le fiamme i vigili del fuoco hanno come sempre bonificato l'area compromessa lo stabile non è agibile ma fortunatamente non si sono registrati feriti a livello di persone perché appunto il magazzino era vuoto ancora cronaca e ancora valseriana incidente questa mattina a rovetta un ragazzo è riuscito però ad uscirne il leso auto fuori strada questo giovedì mattino 8 settembre a clusone lungo la strada statale 671 al confine con rovetta alla guida un 22enne che fortunatamente uscito il leso l'auto proseguiva in direzione bergamo quando probabilmente a causa dell'acqua planning è uscita di strada per circa 100 metri finendo nel prato a lato della corsia opposta terminando la sua corsa nel canale capovolgendosi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di clusone i carabinieri la polizia locale l'ambulanza del corpo volontario presolana e l'automedica il giovane è uscito in autonomia dall'abitacolo e non ha avuto bisogno di cure lasciamo la parte di cronaca adesso parliamo di attualità il caro energia continua a tenere banco si studiano piani per cercare di tagliare la spesa tagliando ovviamente anche il dispendio di energia ma in non tutti i locali si può fare ci racconta tutto luca cavadini la questione energetica sempre più al centro delle discussioni politiche legate alle imminenti elezioni ma c'è chi deve far fronte immediatamente ai rincari che stanno superando tutte le più pessimistiche previsioni chi non può fare altro che adeguarsi sono gli ospedali che devono garantire una media di 23 gradi tra estate ed inverno solo al papa giovanni si aspettano nei prossimi mesi un aumento di spese di circa 5 milioni di euro allarme rsa lanciato dai sindacati si prospettano aumenti di 300 euro mensili ad ospite che si aggiungono a rette già altissime capitolo scuola tante le proposte abbassare di un grado la temperatura in aula si farà scetticismo invece per il sabato in didattica a distanza mal visto sia dai docenti che dai genitori tempi duri anche per i musei e la nostra carrara le opere d'arte sono da considerare soggetti fragili e costano non possiamo nemmeno sfruttare come dire economia nel servizio apro un'ora dopo chiudo un'ora prima no perché non cambia nulla rispetto alle nostre esigenze riferite al tema energetico perché perché noi dobbiamo garantire h24 sette giorni su sette 365 giorni all'anno determinate condizioni climatiche di temperatura e di umidità per le opere vi faccio un esempio nel luglio 2021 abbiamo ricevuto una bolletta della corrente da circa 15 mila euro luglio 2022 passiamo a oltre 55 mila euro un rincaro su base annuale che rischia di vanificare gli investimenti e gli sforzi per dare il giusto prestigio alla nostra accademia sull'anno 2021 noi abbiamo chiuso con a bilancio utenze per 180 mila euro 2022 la proiezione quindi poi staremo a vedere nei prossimi mesi se peggiorerà ulteriormente ma la nostra proiezione ci porta a superare i 500 mila euro quindi capite che davvero i numeri sono enormi e per chi fa cultura fa arte e quello è il suo virgolettiamolo core business avere un'incidenza così spropositata genera un problema enorme il trasporto pubblico locale è tra le armi per ridurre le emissioni anche ridurre i costi e nella settimana della mobilità c'è una grande opportunità per chi utilizza i servizi tutti i giorni venerdì 16 e sabato 17 settembre a partire dalle ore 9 e fino alla fine del servizio su tutti gli autobus di bergamo e provincia si viaggerà gratis l'iniziativa è il frutto dell'adesione dell'agenzia del trasporto pubblico locale alla settimana europea della mobilità sostenibile che si terrà dal 16 al 22 settembre la presidente del trasporto pubblico locale angela ceresoli ha sottolineato come in un momento di difficoltà strutturali del settore determinate dall'aumento dei prezzi del carburante dalla mancanza di politiche economiche adeguate a supporto del trasporto pubblico che hanno portato ad un rincaro dei prezzi dei biglietti l'obiettivo dell'iniziativa sia quello di sensibilizzare il pubblico verso il trasporto locale inteso come servizio fondamentale a disposizione dei cittadini tra le altre iniziative per la mobility week europea il comune di bergamo punta anche sulla promozione della ciclabilità e su servizi di sharing e a proposito di viabilità andiamo in provincia fiorano dove in progetto la costruzione di un nuovo ponte che favorirà una migliore traffico in tutta la val seriana il ponte di fiorano al serio sarà sostituito è questo quanto comunicato da anas la società del gruppo fs italiane che si occupa di infrastrutture stradali e della manutenzione della ss 671 della val seriana nonostante il ponte di fiorano al serio sia di proprietà del comune della media valle anas si è fatta carico di ricostruirlo dopo gli esiti delle indagini e delle perizie anas ha così deciso di cambiare l'impalcato è in corso la progettazione riferisce l'ufficio stampa anas ovviamente ancora non sappiamo i tempi della sostituzione e dall'inizio lavori quel che è certo che anas cercherà di limitare il più possibili disagi alla circolazione stradale il ponte di fiorano al serio dopo la lunga chiusura ha riaperto alla circolazione a senso unico lo scorso 2 maggio dalla val seriana la val brembana chi avrà avuto la fortuna di passeggiare nei boschi quest'estate avrà notato sicuramente diverse piante morte con colori non certo estivi colpa di un insetto ci racconta tutto luca cavadini allarme bostrico in alta val brembana in pericolo ci sono ettari di bosco si tratta di un insetto che prolifera e si moltiplica sotto le cortecce degli alberi soprattutto gli abeti lo chiamano anche tipografo perché scava delle piccole fessure che sembrano geroglifici dove depone le larve ogni femmina 100 nuovi insetti un esercito che toglie linfa vitale alle piante che muoiono in poche settimane il bostrico c'è da tempo ma era un fenomeno limitato ora alte temperature e scarsità di precipitazioni hanno reso il terreno super fertile per lo sviluppo di questa situazione che rischia di diventare drammatica si può agire ma i costi sono altissimi e la soluzione è complessa la chimica e la ricerca sono per ora senza risposte concrete isolare ed eliminare gli alberi infestati è una parte dell'intervento ma individuarli è difficile perché il bostrico parte dall'alto in alberi spesso di 10 metri in molti casi si preferisce lasciare le piante ormai morte per preservare il territorio da frane smottamenti e slavine si sceglie il male minore la soluzione potrebbe darla alla natura sotto i 10 gradi per qualche giorno le larve di bostrico non resistono la speranza sarà un inverno particolarmente rigido e in vista dell'inverno vediamo adesso quali sono i dati relativi al covide si entra un po nella stagione delicata quella del dell'autunno appunto dell'inverno nelle ultime 24 ore a bergamo sono 295 i casi positivi rilevati numeri quindi confortanti con un tasso di positività a livello regionale che si attesta quest'oggi all'undici virgola uno per cento calano ancora i ricoverati in terapia intensiva uno in meno rispetto alle 24 ore precedenti 39 in meno rispetto al giorno precedenti ricoverati negli altri reparti appena sopra le 500 unità ancora troppo alto il numero dei decessi 17 in 24 ore ci sono ovviamente le conseguenze per chi ha un tampone positivo ed è l'isolamento obbligatorio in questo momento a bergamo e provincia sono 2335 le persone in isolamento obbligatorio in auto isolamento fiduciario invece sono 44 i bergamaschi coinvolti ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con due belle iniziative bentornati alla seconda parte del nostro notiziario che apriamo con un bel evento dedicato ai malati di alzheimer che purtroppo nella bergamasca aumentano 10.000 i casi rilevati un milione di persone in italia sono affette da una forma di demenza 600 mila soffrono di alzheimer in provincia di bergamo si contano tra le 9 e le 10 mila persone colpite da questa malattia e dal relativo stigma sociale che troppo spesso la compagna la pandemia da coronavirus ha influito in maniera estremamente negativa sulla vita di queste persone numerosi studi hanno dimostrato come sia aumentata la mortalità e sia diminuita in maniera significativa la qualità di vita l'isolamento a volte l'allontanamento dalle persone care la mancanza di rapporti sociali hanno minato profondamente la qualità di vita stiamo ripartendo faticosamente e ci auguriamo di continuare in questi percorsi perché non si può dimenticare che in questa malattia ciò che cura più dei farmaci sono le persone relazioni significative sono in grado di rallentare la progressione di malattia e dare di una qualità di vita accettabile attraverso il linguaggio dell'arte si riescono a stabilire delle relazioni capaci di riportare alla luce memorie nascoste e dare benessere a persone affette da demenza dal 16 al 19 settembre la centrale elettrica di daste ospiterà il di festival dedicato al mondo del disorientamento che attraverso gli strumenti dell'arte del cinema e del teatro ha l'obiettivo di avvicinare il pubblico al problema delle demenze l'idea è appunto quella di cercare di superare lo stigma di superare le etichette raccontando i nostri temi attraverso l'arte attraverso i linguaggi performativi artistici possono arrivare prima e anche ad altre persone che magari non hanno ancora avuto a che fare con la malattia piuttosto che con lo stigma in generale il festival si colloca all'interno del più ampio progetto che vede bergamo diventare una città amica della demenza è un percorso che è iniziato circa tre mesi fa con l'adesione alla rete da un punto di vista amministrativo ma qui seguono però tutta una serie di proposte che vanno nell'ottica di lavorare insieme all'associazione i quartieri proprio per fare in modo che se una persona con demenza bisogna andare a comprare il pane piuttosto che a un momento di disorientamento in città ci sia sempre qualcuno che possa e sappia orientarla supportarla e gestire la sua complessità piazza vecchia si colora di verde i maestri del paesaggio sono sbarcati nuovamente in città alta uno spettacolo tutto da godere fino al 25 settembre piazza vecchia si è colorata di verde grazie alla manifestazione i maestri del paesaggio che resterà fino al 25 settembre una foresta che riprende la vegetazione tipica del fiume po e la porta in città per valorizzare il nostro territorio e renderci conto di quanto sia prezioso e da salvaguardare in un periodo così difficile dal punto di vista climatico e ambientale i visitatori potranno passeggiare tra le installazioni seguendo un percorso blu che funge da sentiero e porta la scoperta inizialmente della foresta alluvionale per poi passare ad un tipo di vegetazione perenne e a boschetti di salici ai lati prati umidi con piante e fiori tipici dei fiumi lombardi 82 alberi 8.000 piante disegnano un colpo d'occhio in grado di trasmettere freschezza e pace a progettarlo il designer tedesco kasha smith è una delle piazze più belle d'italia vi piacerà perché visionaria e futura la foresta in città è un simbolo per portare più natura in città più piante più alberi e renderla più bella e vivibile tantissimi i turisti stranieri colpiti da questo bosco urbano altre tanti i bergamaschi che attendevano l'evento a margine della piazza vecchia verde tanti incontri organizzati in città che puntano alla formazione e al coinvolgimento della cittadinanza con macchie verdi che sono sorte in altri luoghi caldi di città alta la formula credo che sia questa aver abbinato alla formazione ci sono più di 75 eventi la partecipazione cioè creare un progetto un'installazione temporanea però di grande qualità che quest'anno nasce in università tedesca e che può essere fruibile un po da tutti questa credo che sia stata la formula vincente si avvicina il weekend allora andiamo a vedere che tempo farà nella nostra provincia ben trovati in aggiornamento con le previsioni di tre bimeteo situazione per venerdì quando infiltrazioni di aria umida ancora interesseranno il centro nord Italia rischio temporali questa vasta circolazione di bassa pressione di fatti arricchierà ancora un po' di stabilità meglio nel weekend almeno al nord ovest con più stabilità e sole nel corso di venerdì variabilità qualche locale piovasco temporale non lo escludiamo alternata fasi soleggiate infatti sulla bergamasca abbiamo segnalato variabilità tra locali piovaschi aumenti soleggiati massime in lieve flessione sabato giornata più soleggiata un po' di sole in lieve aumento le temperature sulla bassa bergamasca prossime quasi 30 gradi per quanto riguarda domenica situazione ancora di bel tempo ma bel tempo che perseguirà anche in avvio di settimana tutti i dettagli precisi sull'app di tre bimeteo prima di chiudere un aggiornamento sulla notizia con cui abbiamo aperto il nostro notiziario la morte di una ragazza di 26 anni all'interno di un'azienda di tagliuno una frazione di castelli calepio il suo nome è giorgia manenti il decesso è venuto attorno alle 13 e 30 e purtroppo a ritrovarla senza vita è stato il padre omar che appunto non la vedeva rientrare al posto di lavoro dove lavorava appunto come assemblatrice in una azienda di tagliuno è tutto per questa edizione del nostro notiziario mi fermo qui con l'informazione vi do appuntamento domani alle 19 e 15 e vi lascio a tutti i programmi di sella tv per una buona serata ciao Grazie a tutti.